Faccio tutto, tutto fatto, faccio festa Steggia con noi il tuo Capodanno Sarà una notte ricca di sorprese, meravigliose sedizioni, tanta musica da ballare ed un ospite eccezionale Ciao a tutti, sono Paolo Belli Assieme a voi qui a Termo il 31 dicembre alle ore 22 in Piazza Martiri Noi festeggeremo finalmente l'arrivo di questo nuovo anno che sarà l'anno più bello per tutti Vieni alla notte più spettacolare dell'anno Ti aspettiamo il 31 dicembre dalle 22 in Piazza Martiri a Termo Mi raccomando, non mancare Faccio tutto, tutto fatto, faccio festa Ma non c'è chiシo, ma non c'è chima Ma non c'è chiunque, ma penso che non ci fanno fare Se è un disorder che si trova l'anno Cosa non c'è chiunque Ma c'è un risultato, che si arriva Sì, le ciasse sono l'economia Ma non è cambiato, non è besta Cosa non c'è un risultato Non c'è un taro delしました e assolglie c'è piacere che la prossima e la logica è druida che le ha detto arriva Allora non significa che dure su di tutto, ma c'è un po' di giudizio che è un po' di anche il pianeta mentre è un po' di f Aganda che è un po' di sotto, ma è a che non c'è tutto il fatto di essere più grande. E se, un po' di giudizia non è un po' di giudiziare. la mia cessione. Fa pranzo a una pistola di segure le son子 in segnose, si è scoperto a una parte della competizione della regione e senza pubblicare l'anima. Si è un paese una gioia e la semplicazione in segnale, abbiamo avuto un paese, e è stato un paese, ma potenza c'è un paese da fare sempre a incasso, che è sempre per la risoluzione. Quindi il nostro caso, abbiamo detto che è un paese. secondo me, a un progetto, a un progetto, a un progetto sistema di vita, e poi tapo, a un progetto, c'è la rientro! C'è la visione di un'ogelma vita, grazie! Alla prossima, questa è la conoscenza che in termine! Quindi è l'opposizione di un'ogledenza, una condizione di soluzione, una piacetta di soluzione di soluzione e una sensazione di soluzione di soluzione dell'attività di un'ogcott, sull'organizzazione di un'oggi. e non sono un problema di signori, non c'è quello che hai avuto il paese. Perché non è che posso dire così, ma non ci sono perso, ma come ci sono dellecondioni che non si sono delle persone, ma sono delle persone, ma sono delle persone che non sono буvertime, ma ci sono persone che non sono delle persone anche di loro, ma sono delle persone che sono delle persone che non sono delle persone che hanno mai stato il nostro territorio il tempo che ci sono un po' di solito, ma per fare è passare attraverso le potere le persone. E già, mi piaceva con i ragazzi per questo senso, perché è un po' di solito e abbiamo avuto a rifare di riflessione per le base, per le basi e le basi sono e la storia del corpo del corpo, per la formazione della barbe e la tentazione veramente per la comunità, per le patrere di due tre volte, e soprattutto in questo senso, è un po' di solito, è così vero che è un po' di solito, è una cosa che ha detto il piacere è molto solente sono già, e il fondo a quello che è mi dice che c'è di tutti i giorni e o peraltro, e solo un po' di noi, perché non sono ancora un po' di tezza, e non sono ancora un po' di tezza. Così ho scoperto, e quindi continuo con il piacere le stigetto, e non è vero, è un po' di potere, e non è un po' di potere, Io non ci provo dire, non lo faccio, io non lo faccio, ma non vuoi distorsi, mappa, questa è una specie, ma sono, ma non lo faccio, ma non lo faccio. Benissimi, ho finito, sono le tre, sono i ragazzi, sono i ragazzi da unazego del pregno di questa. E poi, ho detto che non sarebbe anche sempre qualche importanza, diciamo, per esempio, che ti ricorda di questo giorno, nel tutto il giorno, che non ci sono tanti, però mi ricorda davvero solo che l'abbiamo e fino a poco. Rai un'estoglio nel corso dell'evoluzione e non ho bisogno di un'prezzo. E' un'incl leyendo un'evoluzione che ha dato un po' di cento per la nostra sottothomazione che le recorrere scrivono non ci sono attraversi e le stavore... Attraversi la sottotitura e anche a questo che sono sempre una sicresa fordente e un processo di scontazione delle missioni, ma perso che tutte le mani non riesci a coneggiare un paese di propria condozioni che ci hanno detto che non sono stati comunque, ma comunque è desiderata questa gente quali sono le domeniche riuscite a raggiungire un raggiungo stefano a metafogo, sonrore e un'amera di anche un'amera di direttore. di capire la cara di pieno di soli di migliorare, che credo sia un po' di migliorare, ma con la squadra che c'è stata trovata come c'è stato un'imitore di sottrazione, come un'imitore di più? C'è un po' di siglare che c'è un po' di migliorare, è il momento che non è il momento, ma che è un po' di migliorare, quindi sono giudastica da un po' di migliorare, sono giudiziai di sottrazione, le po' di migliorare, che avessero quello che si intrusse più, un'altra cosa, la cento di un periodo sulla cremina di costa della presentazione, ma è un'interessazione di tutto il funzione dell'applicamento, per le cose in cui non si deve fare un gesto con un'emozione, ma non si può essere un'emozione senza possibilità di ottenere i nostri amici, ma non si può essere un'emozione, ma non si può essere un'emozione, e la chiescina con i tempi dei miei sostanziali hanno un po' semplice di strada e il fatto che c'è stata un'alimentazione che ci serve sempre a succedere insieme senza fondamentale ma se non è arrivato non è arrivato alla terra ma non è arrivato alla terra ma non è arrivato tantissimo in strada ci hanno avuto un rischio che è assolutamente che è assolutamente che è un problema che è arrivato e non è assolutamente ma non è assolutamente che non è assolutamente faccio tutto tutto fatto faccio festa festeggia con noi il tuo capodanno sarà una notte ricca di sorprese meravigliose esibizioni tanta musica da ballare ed un ospite eccezionale ciao a tutti sono Paolo Velli assieme a voi qui a Termo il 31 dicembre alle ore 22 in piazza Martiri festeggeremo finalmente l'arrivo di questo nuovo anno che sarà l'anno più bello per tutti vieni alla notte più spettacolare dell'anno ti aspettiamo il 31 dicembre dalle 22 in piazza Martiri a Teramo mi raccomando non mancare faccio tutto tutto fatto faccio festa faccio festa a l'arrivo di